crisi licenziamenti solitudine sempre più spesso sempre più persone cadono vittime di nuove povertà nella disperazione nell'abbandono tu puoi esserli accanto aiuta la fondazione patrizio paoletti con un sms al 45597 o una chiamata da fisso a distribuire un milione di pasti 45597 dai a chi cade la forza per rialzarsi